Amici di Android Blog, siamo allo stand week del Mobile Work Congress 2014 per vedere la gamma EVEN stavolta su terminali che vanno con caratteristiche leggermente inferiori all'highway che abbiamo visto in precedenza parliamo di Starway e di Gateway due terminali con un display IPS da 5 pollici HD che presentano una camera entrambi da 13 megapixel, processore quad core da 1.2 giga su Slow Starway che andiamo a vedere ha una plastica posteriore e comunque un contorno di alluminio che abbiamo visto su molti altri terminali della gamma andiamo a vedere invece su Gateway il contorno che è sempre in alluminio ma il posteriore ha questa finitura opaca davvero piacevole al tatto e alla vista questa finitura è ripresa anche nel bordo inferiore del terminale segno di un terminale di fascia decisamente superiore per quanto riguarda la versione di Android qua abbiamo la 4.2.2 Jelly Bean mentre su Starway visto in precedenza avevamo la 4.2.1 veramente piccole le differenze ricordiamo una caratteristica veramente particolare di questo Gateway è un dual sim e fin qui nessuna novità ma uno dei due slot della sim può essere adibito a slot di espansione di memoria mettendo una micro SD perché lo storage interno nonostante lo storage interno sia già di 12.26 giga libero quindi una caratteristica che riteniamo inedita che non avevamo ancora visto la versione di Android è quella stock che praticamente non vi sono personalizzazioni di sorta quindi Linea Heaven, Starway e Gateway da UICO un saluto da Alessio per Androidblog.it